aspetta vabbè ue 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 ragazzi e benvenuti in questo nuovo video naturalmente adesso devo fare sempre la storica cosa quindi eccomi di nuovo allora oggi faremo un progetto molto molto tutto molto interessante che mo vi mostro sarà su quel non è vita credi che sarà su quel posticello lì cioè dove ci passa la ferrovia vado per la ferrovia in una bulla sera perché è più corta da fare la ferrovia se non cado sempre vabbè comunque vado perché oggi faremo ragazzi e ragazze un vi un treno un video facciamo un video in un video facciamo un treno che è ancora non è cresciuta l'erba ma c'è ancora l'erba comunque sperando di non aver messo niente in altre per tutto il mese di luglio non farò video quindi farò credo forse ho tutto il treno oggi oppure lo dividerò in parti comunque iniziamo subito prendere shulker qui ok questa mi serve questa non tanto questa per adesso no almeno poi mi servì tu mi servì vabbè poi le cose che mi servono le prenderò ah no mi servì sì mi servì aspettami non ce li ho sono qui bu vabbè non lo so ragazzi devo cercare un attimo che cavolo sono le slab disti cospi grafting semplice semplice qui c'è un po' di slab poi bottoni 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 dove siete bottoni ah vero avevo la stonda ma non avevo la stonda ah no ragazzi ragazzi usero un comando per i kit ma non vi preoccupate uso solo questo perchè io vi giuro che odio la pioggia e vabbè non fa niente tranne per colchini per mano adesso non ci sono le scatole quindi lasciamolo stare quindi ho detto faremo se lo zombie ce lo permette un treno come lo faremo questo treno bello lungo beh normale no ma mi volete lasciare in pace un po' oh oh se cantoni ok lo faremo in questa maniera prendi allora mamma ho attaccato le scatole oh mamma che va mamma vengono giganti non credevo che venissero così grandi comunque queste saranno sì comunque faccio entrare l'altro cosa vabbè queste saranno le ruote come non è che è finita eh devo farmi pure dei pulsanti che cadono a terra che fanno che fanno no questo che cacchio che cacchio ha fatto soltar in area politico e questo sarà il questi saranno i come si chiama le ruote del treno naturalmente servivano i bottoni solo che creeper molto simpatici a rompere le scatole che non mi fa ragno ragno non mi rompere le scatole ragno sentite ragazzi vado a dormire perché mi sono fatto ora la struttura del treno sarà ragazzi devo scutare però l'inventario perché sennò non si ci può lavorare almeno un po di cose ce le ho eh sì se non mi prendo le slab come devo farle queste le mo vi faccio vedere allora il pavimento del treno sarà in stone slab naturalmente per come pavimento classico saranno così però per metterci gli altri blocchi di ferro sopra saranno doppi perché perché sennò i blocchi di ferro fluttano quindi si capisce perché essenzialmente si capisce e questo è la base del treno questa è la base del treno poi qui nei contorni mettiamo le stone slab tutte attorno ok io sinceramente ragazzi voglio usare questi blocchi solo che ehm lì non ce la tommo vi spiego perché qua ci devo mettere le porte perché sì sì penso che vabbè tanto non è detto che ci devo mettere qualcosa dentro e praticamente questo treno sarà un treno no 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 devo fare più grande perché ci vuole uno per spaccarlo con il piccone di diamante perché ci sono dei lama lì per fortuna ne ho piaciuti pochi perchè sennò 1,2, via devo ingrandire il coso perchè sinceramente fa schifo così piccolino quindi lo farò più grande di un blocco non vi pensate perchè ragazzi poi se ci voglio mettere perchè la locomotiva sarà piccola come il vagone che stavo facendo italiano viene a me quindi per forza devo farlo più grande perchè sapete ragazzi la locomotiva perchè io voglio fare una di quelle antiche è sempre più piccola dei vagoni si però poi ci sparo naturalmente non vi preoccupate è più piccola del vagone perchè io l'ho vista una dal vicino poi chi l'avrà visto forse mi potrà pure dare ragione e quindi sarà così niente io devo fare solo tutto sto lavoro per tutto il contorno del treno che alla fine ragazzi fare un treno vi spiego pure il motivo perchè ho voluto soccarsi scemo che non ve l'ho spiegato il motivo per cui faccio questo treno è perchè nemmeno i treni tra virgolette di minecraft beh fanno un pochino schifo senza offesa nocce e tutti gli altri però fanno schifo poi non mi andate a scrivere nei commenti che sono minecart cioè che sono per le miniere quindi è normale però cioè per me fanno un po' schifo perchè le persone più che altro non le usano per giocare per andare nelle miniere per giocare nelle miniere sì vabbè per andare nelle miniere ma le usano più che altro per fare con la tratti distanti quindi ho dedicato questa opera proprio per questa cosa dei vagoni schifosi mi sa che non mi basta me ne dovrò prendere anche più di uno di uno sac allora mi sa sì 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 me ne serviranno oh sì mi sa che me ne serviranno di più per fortuna almeno riesco a finire sto testo questo cosa poi vi spiego tutto il bello il funzionamento vero qui ci dovrò mettere una doppia slide perchè la porta però ci dovrò mentre ecco beh essenzialmente no comunque mamma come c'è beh chiudi il video qui però avrà metà naturalmente quindi ciao morì faccio un altro video